Buongiorno a tutti e benvenuti o ben ritrovati al Forum Internazionale della Cultura Ludica, cuore intellettuale teorico della dodicesima edizione del Festival Internazionale dei Giochi in Strada a Toccati, luogo in cui le realtà ludiche si raccontano tramite riflessioni ed esperienze dal mondo del gioco tradizionale. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti nella giornata di ieri e quelli che interverranno durante questa seconda giornata, illustrandoci diverse dimensioni del gioco italiano e destro. Gli incontri di oggi si svolgeranno dalle 10 alle 13 e riprenderanno dopo una breve pausa alle 15, per proseguire poi fino alle 17.30. Diamo dunque inizio alla seconda giornata di incontri del Forum Internazionale della Cultura Ludica con il primo intervento Gioca la Luna, la notte dei bambini e delle bambine, a cura del progetto Città del Comune di Bari. Lasciamo la parola ad Andrea Mori che ci parlerà dell'evento Gioca la Luna. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità qui al Tocatì al Comune di Bari, in particolare che io rappresento attraverso le attività che svolge in convenzione con una cooperativa sociale che si chiama Progetto Città. Brevemente per raccontare il perché della presenza qui a Tocatì del Comune di Bari. Il Comune di Bari è intanto una città che aderisce all'Associazione Nazionale delle Città in Gioco, Giona, dal 2005. Un'associazione che appunto è qui presente in piazza Pescheria in questi giorni con attività ludiche che appunto mostrano le cose che si fanno in alcune parti d'Italia. Sono rappresentati alcuni comuni, oltre Bari, anche Gorizia, Siano, Catania e altri. Qui vengo invece a raccontarvi brevemente quello che il Comune di Bari fa nel campo del gioco attraverso principalmente le attività svolte in convenzione con l'assessorato al welfare del Comune di Bari. L'assessorato al welfare che svolge e promuove una serie di servizi, troverete sulle sedie un piccolo dépliant impieghevole in cui sono schematicamente raccontati tutti i servizi di welfare legati alle famiglie e bambini, minori, famiglie appunto, che il Comune di Bari welfare promuove e realizza. Vedete in tante attività che sono di tipo socioeducativo, socioassistenziale, anche alcune che hanno un aspetto specificatamente ludico. In particolare quelle che sono legate a un progetto che si chiama Parchi Aperti, che è appunto la cornice entro cui si svolge, che è all'interno della grande iniziativa che il Comune di Bari promuove con l'estate ragazzi. L'estate ragazzi è una serie di eventi, iniziative, attività, laboratori che vengono promossi all'interno di tutti i quartieri della città dai centri polivalenti per minori, che sono delle strutture che appunto interagiscono all'interno della città. Dentro questo contenitore dell'estate ragazzi c'è l'esperienza appunto il progetto Parchi Aperti. Il progetto Parchi Aperti che si svolge in particolare appunto in due parchi cittadini e che prevede una serie di cose tutti i pomeriggi dal metà giugno a metà settembre e alcuni eventi particolari. Tra questi eventi, questo è il dépliant che trovate anche sulle sedie dove vengono raccontate le cose che vengono fatte nel parco cittadino di Parco 2 Giugno e di Parco Don Torino Bello, che sono i due parchi della città che raccolgono queste proposte. All'interno di questa programmazione ci sono degli eventi speciali che sono appunto quelli che vado a raccontarvi e sono vediamo se si riescono a vedere appunto. Sono Gioca alla Luna, la notte dei bambini e delle bambine e le Olimpiadi dei quartieri che è una forma di organizzata di gioco della tradizione che viene proposta attraverso una forma semiolimpica diciamo a modello di disciplina olimpica tanto è vero che ai bambini poi ai ragazzi che partecipano di solito partecipano in squadre che rappresentano i vari quartieri della città ci sono poi premiazioni vere con le medaglie medaglie di bronzo, d'argento e d'oro che sono come dire una sorta di riconoscimento per legare i vincitori poi magari parliamo un po' più anche di faccio vedere delle immagini su questo comunque Gioca alla Luna Olimpiadi dei giochi tradizionali Gioca alla Luna e quest'anno è la settima volta che abbiamo presentato questa manifestazione si svolge di sera si svolge la notte diciamo è la notte dei bambini si svolge generalmente intorno alle 21 in avanti fino a mezzanotte e mezzo e la domanda che ci fanno sempre gli adulti è se i bambini rimangono svegli fino a mezzanotte e noi sappiamo che è una domanda quasi ovvia e banale perché d'estate a luglio a Bari che fa caldo non è che uno va a dormire alle 6, alle 7, alle 8 ma anche perché a Bari non si va a dormire prima di una certa ora visto che siamo un paese decisamente mediterraneo e quindi portato più a ritardare i tempi piuttosto che anticiparli i bambini stanno tranquillamente comodamente anche quelli piccolissimi fino a ore insospettabili che cosa è Gioca alla Luna? Gioca alla Luna è una specie di format chiamiamolo così che mette in condizione i bambini e le famiglie di usufruire di un'attività di gioco in orari e spazi che non sono quelli soliti abituali allora giocare dalle 9 in poi ma non in maniera organizzata occupando una parte della città riconquistando una parte della città è poi tra l'altro uno degli obiettivi che l'associazione Giona promuove attraverso il suo manifesto delle città in gioco è uno degli elementi importanti è un elemento appunto di sensibilizzazione e di riutilizzo e riqualificazione dello spazio cittadino che cosa succede in questo Gioca alla Luna? in questo Gioca alla Luna succede tutto quello che potrebbe essere interessante per i ragazzi per i bambini per le famiglie laboratori spettacoli gioco libero e giochi organizzati e in particolare la cosa interessante di Gioca alla Luna è che viene a valorizzare alcune parti della città che di solito sono appunto di preminenza di uso preminente dell'adulto in particolare quest'anno e due anni fa abbiamo identificato nella muraglia della zona vecchia di Bari la zona vecchia di Bari è una specie di piccola penisola che si protende sul mare e che viene circondata da una passeggiata molto bella che appunto da una parte ha il mare e dalla parte ha il borgo antico costeggia anche la famosa basilica di San Nicola tra le altre e fa una camminata molto interessante e tutta quella camminata viene usata è stata usata quest'anno e due anni fa per dislocare appunto una serie di attività di gioco in più a questo noi inseriamo nel nel momento comunicativo e anche ludico della manifestazione la possibilità di aggiungere un elemento luminoso per esempio come questo che abbiamo ci siamo inventati e realizzato e che poi viene costruito con i ragazzi o distribuito ai ragazzi se i bimbi sono piccoli oppure invogliamo i genitori a costruirlo per i loro bambini è una lanterna è una piccola lanterna che contiene un lumino di quelli piccoli piccoli e l'adulto dice ma si brucerà? no non si brucia allora questo è l'altra domanda insieme a quella se i bambini rimangono svegli la notte diciamo sono le due domande diciamo classiche dell'adulto a cui noi diciamo appunto che siano tranquilli sia nel caso 1 che nel caso 2 questo è un piccolo gioco di costruzione siccome l'abbiamo fatto sulla muraglia così viene chiamata il gioco di parole perché di gioco ancora si tratta e chiamarlo appunto abbiamo chiamato giocca la muraglia e quindi questa assonanza vagamente francese Bari è stata diciamo attraversata da numerose culture popolazioni ai bizantini dagli arabi dai francesi dai normanni insomma da tutti è tuttora attraversata da tutti se ricordate semplicemente nel 91 quando abbiamo come dire vissuto in maniera drammatica l'estate del 91 l'arrivo della nave Vlora con 20.000 albanesi che sono arrivati in un'estate tremenda dal caldo nella nostra città noi siamo un paese una città che facilmente viene attraversata e facilmente accoglie si dice che Bari è amante dei forestieri un po' perché i forestieri portano turismo soldi ovviamente il barese non fa niente diciamo in maniera decisamente così gratuita è un levantino e quindi ha una sua imprinting arabo però l'accoglienza è sicuramente un tratto caratteristico della città e allora appunto tornando a noi appunto il gioco anche di questo gioco dell'amore virgolette dove noi abbiamo simbolizzato due lune nasute che si specchiano a creare una sorta di immagine di cuore una sorta di evocazione si vede si capisce quando si accende il lumino all'interno noi abbiamo studiato la costruzione di questa lanterna in modo tale che ci sia un buchetto dove si possa mettere uno di quegli accendini tipo accendigas che permettono di accendere la candela all'interno senza dover montare la candela o senza doversi bruciare sul muro o sulla parete quando viene accesa si proietta questa forma di cuore che è un elemento che non ci sta male insieme all'evocazione del gioco quindi è un gioco la costruzione della lanterna è un gioco il gioco che la contiene è un gioco appunto anche questo di mandare un messaggio che è un messaggio di inclusione anche perché è questo che fondamentalmente come messaggio il comune di Bari vuole trasmettere cioè una città inclusiva e non una città che esclude una città che rispinge Gioca alla luna tra l'altro qui torna un po' indietro deriva da un gioco il nome Gioca alla luna deriva da un gioco tradizionale che si chiama Iun Monda la luna detto in barese uno sali sulla luna Monda la luna vai sulla luna ed è una filastrocca che viene usata in un gioco di salto cioè i giocatori fanno il tocco uno quello che esce si mette piegato e poi gli altri giocatori saltano tutti in sequenza sul povero giocatore che è stato vittima insomma del tocco e quando saltano ogni volta dicono una frase che deve essere poi ripetuta da tutti i giocatori allora Iun Monda la luna salta e l'altro che segue Iun Monda la luna salta poi Du Monda blu tre la fighe du re quattro la batamana eccetera eccetera e le frasi che questa filastrocca dice danno anche indicazione su come si deve saltare per esempio al quattro quattro le cotugne quattro sarebbe la mela cotogna si salta con i pugni e non con le mani sulla schiena del del giocatore è un esempio oppure quando c'è la frase la padoletta vola è un salto che viene fatto dando con il piede un colpo sul sedere della persona che viene saltata quindi immaginate questa filastrocca che va avanti per 15-16 frasi che permette poi una serie di interpretazioni fisiche dell'atto ludico che appunto permette il salto ma fa anche fare degli scherzi o mette come dire in posizione abbastanza problematica poi chi sta sotto e chiaramente mette anche in difficoltà il saltatore o in una delle fasi del gioco il saltatore deve saltare e deve rimanere in piedi su un piede solo deve rimanere su un piede solo oppure deve potersi accovacciare appunto incrociando le gambe quindi capite bene è un gioco prettamente maschile ovviamente si capisce diciamo dalla dinamica del gioco però ecco questo un mondo alla luna è diventato per noi uno alla luna è diventato gioco alla luna ed è un elemento che benché diciamo il sole a Bari non manchi quasi mai vivendo appunto una condizione ottimale dal punto di vista climatico da questo momento in poi nell'ottobre e novembre sono i mesi diciamo in cui la luce il caldo a Bari è forse maggiore che in altri mesi dell'anno però questa idea della luna è un'idea un po' misteriosa poi l'abbiamo rappresentata un po' con Nasuta il logo di questo di questo evento è un il disegno della luna che trovate sul logo della manifestazione è quello di una è un disegno fatto da una bambina che l'ha disegnato in questa maniera e che io poi ho voluto riprendere come elemento diciamo grafico per raccontarla faccio vedere rapidamente perché il tempo è quello che è ci sono poi le colleghe del comune di Gorizia che racconteranno appunto un'altra esperienza poi sono chiaramente a disposizione se chi vuole può avere bisogno di ulteriori informazioni ecco qui vedete faccio vedere alcuni momenti di questa manifestazione che viene svolta nella città vecchia nella città vecchia è anche importante perché c'è il coinvolgimento anche delle persone della città vecchia cioè non viene soltanto il luogo come dire colonizzato dall'esterno ma c'è un utilizzo anche diciamo non strumentale ma un coinvolgimento soggettivo per esempio delle donne anziane che per esempio realizzano preparano delle cose da mangiare se passate una domenica mattina come questa dalla città vecchia di Bari sarete presi dall'odore dei sughi o delle fornacelle che sono messe davanti alle case delle persone perché all'interno non c'è lo spazio talvolta per cuocere diciamo la carne o il pesce è un tripudio trionfo di odori e di orecchiette magari stese ad asciugare sulle grate al sole e quindi questo è interessante ora poi faccio vedere rapidamente un'altra cosa importante è il fatto che all'interno della città morattiana in questa parte qui c'è una grande presenza per esempio di persone immigrate di famiglie immigrate e questo mette anche un altro elemento interculturale estremamente interessante all'interno della manifestazione di quest'anno c'era un gruppo appunto di famiglie mauriziane di ragazze donne mauriziane che hanno fatto un laboratorio per decorare così come succedeva nei riti di matrimonio delle donne e quindi collegamento con l'amore in qualche maniera con i tatuaggi con le nè sulle mani che è un elemento che è interessante anche come scambio interculturale faccio vedere rapidamente se si riesce a capire un po' anche il clima teatro di strada spettacoli laboratori tanta gente e poi questo vedete qui c'è se si riesce a vedere c'è un intervento fatto da un'illustratrice importante che Vittoria Facchini che è un'illustratrice di Molfetta una nostra amica che ha fatto proprio un gioco con i cuori con dei cuori di cartone al cui interno i bambini e i ragazzi hanno disegnato delle cose e abbiamo come dire decorato tutta una parete ovviamente brutta e sporca che è stata invece come dire oggetto invece dell'incontro con questi cuori rossi che hanno contenuto le comunicazioni dei bambini questo è una specie di comò che ha evocativamente questi cuori faccio vedere più immagini in modo che insomma le cose le avete capite in qualche maniera teatro di strada eccetera e quindi il gioco va bene non mi dilungo potremmo raccontare la questione anche delle olimpiade dei giochi tradizionali però lo lasciamo diciamo chi vorrà magari approfondire questa cosa in piazza pescheria questo pomeriggio dalle ore 15 dove appunto con le colleghe di Gorizia e con altri colleghi saremo a proporre attività di gioco e di creatività di laboratorio artistico con i ragazzi grazie